signori buongiorno e bentornati sul canale del master k e io sono il master k e il vostro ospite su questo canale si avete visto il titolo un altro video sull'allineamento si ce n'era effettivamente proprio bisogno si può darsi che io abbia un problema perché fare un altro video sull'allineamento dopo tre anni di canale l'argomento ormai dovrebbe essere stato sviscerato e tutto ma in realtà negli ultimi mesi mi sono arrivate un paio di domande che mi hanno fatto riflettere sul fatto che molto probabilmente io ho dato per scontato una cosa in realtà non scontata affatto che ha lasciato un buco in tutto il lavoro che ho fatto sulla trattazione degli allineamenti nel d20 system comunque prima della fine di questa stagione voglio rimediare quindi oggi andiamo a parlare di a che cosa serve l'allineamento e molto probabilmente non è quello a cui pensate voi molti di voi probabilmente hanno già assistito se non preso parte direttamente a uno di quegli innumerevoli dibattiti sul fatto che ama l'allineamento è troppo restrittivo ama un personaggio dovrebbe agire solo in base al suo allineamento non l'allineamento è solo una traccia ah ma non si può descrivere l'intera struttura morale concettuale di un personaggio in solo quattro parole ora sul fatto che questi argomenti in realtà siano semplicemente fuffa campata per aria ne abbiamo già parlato in un video precedente ve lo lescio qua non starò a ripetermi a questo punto però rimane una domanda fondamentale ma se l'allineamento non è lì per descrivere il carattere del personaggio e l'allineamento non è lì né per vietare azioni né per suggerire azioni per quale motivo ce lo fanno scrivere sulla scheda se esiste come valore all'interno del gioco a qualcosa dovrà pur servire e sì l'allineamento ha una sua funzione fondamentale ma per capire bene qual è bisogna tornare indietro nel tempo e risalire alle origini di Dungeons & Dragons quando inizialmente fu creato Dungeons & Dragons ci fu un esplicito tentativo di inserire quanti più troppe citazioni dai classici del fantasy possibile questo sia invece lo scopo di marketing ma anche per rendere il gioco più apprezzabile al più vasto numero di possibili utenti sempre restando all'interno del panorama degli appassionati del fantasy del wargame furono prese le razze del signore degli anelli di Tolkien quello probabilmente è il riferimento che hanno colto tutti il sistema magico è ispirato a quello della terra morente di Vans anche su quello abbiamo fatto un video ma ci sono anche riferimenti minori la spada Vorpal è quella che viene usata in un poemetto di Lewis Carroll all'interno di Alice oltre lo specchio per uccidere il Jabba Walk che in italiano è stato tra l'altro come Cicciarampa e tra l'altro nell'attuale edizione di Pathfinder trovate nel manuale dei mostri proprio come Cicciarampa ed è particolarmente vulnerabile nell'abbia alle armi Vorpal questo è uno di quei riferimenti minori ma è comunque preso dalla cultura popolare mettiamola così il problema con la cultura popolare è che al di là di un certo momento storico smette di essere pop perché comincia ad entrare nell'ambito dei classici ma i classici non essendo pop sono meno conosciuti le opere a cui faceva riferimento Dungeons and Dragons inizialmente erano opere pop degli anni 60 e 70 che adesso non vengono lette non sono così conosciute al di fuori dell'ambito di chi studia la letteratura tra queste opere c'è un colosso all'epoca famosissimo oggi abbastanza dimenticato che è il ciclo di Elric di Mellimonè il ciclo di Elric di Mellimonè è estremamente vasto ed è un argomento complesso a cui probabilmente dedicherò un video prima o poi tra l'altro a un suo gioco di ruolo dedicato Strombringer della Causium che meriterebbe anche quello un suo video di storia per quello che riguarda noi ora però l'aspetto fondamentale che ci interessa è che all'interno del ciclo dei romanzi è centrale il fatto che ci sia una guerra tra gli dei del caos e gli dei della legge per il controllo dei regni giovani quello che potremmo definire il piano materiale l'intera ambientazione è fortemente divisa tra gli dei del caos gli dei della legge e alcune potenze elementali relativamente minori e il protagonista della serie Elric di Mellimonè è un campione di Iroch il cavaliere di spade uno dei signori del caos se tutto questo vi ha fatto venire in mente gli dei del caos di Warhammer si è esattamente da Elric di Mellimonè che l'idea viene presa come viene presa in molti altri giochi che hanno o la dicotomia tra legge e caos o semplicemente la presenza degli dei del caos o del caos all'interno dell'ambientazione Warhammer la versione originale è quasi contemporanea a Dungeons and Dragons anche di quello abbiamo parlato in un altro video quindi sono entrambe state influenzate dal contesto in cui si sono sviluppate in quegli anni il conflitto tra la legge e il caos era un argomento di discussione importante tra i nerd e gli appassionati del fantasy in generale potrebbe essere un equivalente come per noi oggi discutere se si è dalla parte dell'orda o dell'alleanza anche tutte quelle tre persone che non hanno mai giocato a world of warcraft comunque sanno di che cosa stai parlando o chiedere a qualcuno quale sia la sua casata preferita del trono di spade che a noi oggi non sia evidente è ovvio pensate a uno che passi tra 50 anni su questo video e non capisca assolutamente nulla dei riferimenti che ho appena fatto tra l'altro inizialmente l'asse dell'allineamento era uno solo proprio quello legge caos l'asse secondario bene male fu aggiunto solo più avanti quando il gioco si sfostò verso un ambito più narrativo il motivo per cui l'allineamento ha così poca a che fare con il modo in cui si interpreta il personaggio e quindi proprio perché all'inizio non fu affatto pensato per essere utilizzato in quel modo col passare del tempo però man mano che non solo le varie edizioni di dnd si susseguivano ma anche le generazioni dei giocatori si susseguivano la gente che ha cominciato a giocare a dnd dagli anni 80 in avanti molto probabilmente è entrata per la prima volta in contatto con l'allineamento non con le opere di monrock ma con dnd stesso che nel frattempo è diventato culturalmente sempre più rilevante fino a diventare un vero e proprio fenomeno pop a sua volta molto conosciuto ma torniamo quindi alla domanda principale a che cosa serve l'allineamento serve a indicare quanto le azioni di un personaggio abbiano favorito una delle forze e di conseguenza lo abbiano reso ben visto agli occhi delle entità potenti che sono governate da quella forza ad esempio più un personaggio compie azioni malvagie più in questo modo avrà perorato la causa del male e di conseguenza sarà ben visto dagli dei malvagi da altri esseri planari malvagi che saranno più propensi ad aiutarlo e contemporaneamente sarà mal visto dagli dei buoni entità planari buone che se possibile cercheranno di ostacolarlo questo è un discorso lungo su come funziona l'altro mondo in dnd ne parleremo più avanti questo è anche il motivo per cui contano esclusivamente le azioni e non le intenzioni dietro quelle azioni perché le potenze planari tengono principalmente al proprio interesse non al perché stanno venendo aiutate dal personaggio solo che quello che abbia fatto il personaggio l'ha in qualche modo aiutate ovviamente comunque un personaggio potrebbe volontariamente compiere azioni particolarmente allineate sia perché genuinamente pensa che quella fazione ideologica sia preferibile alle altre o anche solo perché pensa che ha qualcosa a guadagnarci lui stesso che è il motivo per cui ai chierici spesso è chiesto di mantenere lo stesso allineamento o un allineamento molto simile alla divinità che concede loro i poteri e proprio per questo che voi come master non dovreste interpretare l'allineamento come cosa il pg può non può fare deve non deve fare né pensare che in qualche modo l'allineamento vada a descrivere la psicologia o il carattere del pg tra l'altro non sta a voi come master andare a interessarvi di queste cose i personaggi giocanti sono sotto il controllo dei giocatori che li utilizzano come meglio pare a loro voi avete i vostri png con cui giocare loro hanno i loro dire al guerriero che ha scritto legale e buono sulla scheda che però il suo personaggio non si comporta da buono dovrebbe essere più buono dovrebbe essere meno buono non serve assolutamente niente non fa altro che creare discussioni e fondamentalmente state perdendo tempo per una parola scritta sulla scheda non è qualcosa di interessante piuttosto volete rendere la cosa utile integrata nella narrazione il guerriero buono non si comporta affatto da buono la volta che il party sarà in una situazione disperata e hanno bisogno d'aiuto ad aiutarli arriverà un diavolo che dirà che è venuto lì perché il guerriero è uno dei più grandi alleati che l'inferno ha all'interno del party e non potevano assolutamente permettere che gli succedesse qualcosa perché gli è così utile per i loro piani questo crea gioco questa è una situazione interessante e a quel punto il personaggio del guerriero non il giocatore del guerriero potrà confrontarsi con effettivamente quella che è la sua morale lui pensava di essere buono ma in realtà non lo era affatto ai livelli più alti poi se un party è particolarmente allineato o comunque ha spesso agito bene nei confronti di una determinata potenza potrebbero anche essere chiamati direttamente da un'entità planare una divinità, un signore dei sette cieli, un signore degli abissi, quello che è comunque potrebbero essere chiamati al servizio diretto di quel potere planare qua effettivamente quello che ci potete fare è limitato solamente dal tempo che avete per sviluppare le quest però diciamo che invece di tempo per guardare questi video non ne avete illimitato quindi è meglio chiuderla qui prima che degenere in un rant di un'ora come al solito quindi diciamo che per questo video è tutto e questo è anche l'ultimo video della rubrica del D20 System per questa stagione la riprenderemo a settembre quando inizia la nuova stagione del canale cominciando a parlare di Mostrario e molto probabilmente di Warbuilding assieme però questo dov'è ancora deciderlo comunque come sempre se questo video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a far crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il Master Kai noi ci vediamo nel prossimo video ciao